Ciao a tutti, oggi preparo con voi gli spaghetti alle vongole con la crema di peperoncini friggitelli, iniziamo! Allora, per prima cosa in padella mettiamo l'olio extravergine d'oliva, aggiungiamo due spicchietti d'aglio e quando l'aglio sarà leggermente dorato mettiamo i friggitelli, regoliamo leggermente di sale, aggiungiamo un mestolo di acqua bollente, copriamo col coperchio e facciamo cuocere per 5-6 minuti, per sburgare le vongole un litro d'acqua e 30 grammi di sale, questa è la proporzione, le mettete in un passino non a contatto con il fondo del contenitore in maniera tale che i detriti guardate vanno giù, poi le risciacquate ed eventualmente le sbattete perché quelle piene di sabbia si apriranno, visto che l'acqua bolla mettiamo il sale e mettiamo subito a cuocere gli spaghetti che dovranno cuocere questi qui per circa un quarto d'ora, quindi li metto subito, una volta tolti gli spicchietti d'aglio trasferiamo i friggitelli nel bicchiere del mini peamer, li frulliamo e la crema ottenuta la mettiamo da parte, volendo la possiamo anche passare al setaccio, a questo punto apriamo le vongole, olio, anche se non tutti sono d'accordo ma io ci faccio un bel fondo perciò le faccio aprire così, olio, aglio, un po' di peperoncino, metto le vongole, allungo con un bel metro di acqua di cottura della pasta, copro con il coperchio e attendo circa un minuto e mezzo, passato poco meno di un minuto e mezzo tolgo il coperchio e comincio a togliere le vongole man mano che si aprono, le metto in un piatto e ne sguscerò sicuramente un bel po', come vi dico sempre non aspettate che si aprano tutte per toglierle, altrimenti quelle che si aprono per prime diventeranno gommose, toglietele man mano, adesso filtro il liquido delle vongole, do una sciacquata alla padella, rimetto in padella il liquido filtrato e a questo punto due minuti prima della fine della cottura trasferisco gli spaghetti in padella e li faccio finire di cuocere nel liquido delle vongole, aggiungendo se occorre acqua di cottura della pasta, ci siamo, guardate che bella cremosa che è, la pasta è al dente al dente come piace a me, quindi aggiungiamo la crema di frigitelli, possiamo anche già spegnere la fiamma, mantichiamo, adesso aggiungiamo le vongole sgusciate, ecco qua, adesso una bella grattugiata di limone che ci sta proprio bene, senza esagerare, ed ovviamente assaggio con voi direttamente da qui. E' buonissima, fatela e fatemi sapere che cosa ne pensate tramite i commenti qui sotto, se il video vi è piaciuto mettete un like, condividetelo, se siete su youtube cliccate qui sotto per iscrivervi al canale o qui sopra su segui, se siete su facebook, io per il momento vi saluto e prima di lasciarvi come al solito ne approfitto per augurarvi buon appetito!